E benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi come avete letto dal titolo siamo qua con l'ultimo box opening dell'ex Brawl Stars Perché non ce lo sapete ma Brawl Stars si è evoluto in 2.0 rispetto all'1.0 che era prima No non è vero è una bufala Andiamo ad aprire le cassette che ci sono rimaste Allora prendiamo la ricompensa gratuita E non spendiamo gemme perché ci dobbiamo comprare il pass successivo Io direi subito di partire con le box 7 queste qua in alto Quindi partiamo erano rimasti a 100 box 7 piccole 15 enormi Facciamo un po' e un po' Vi ricordo che noi dobbiamo ancora trovare 2 Brawler Uno è Semino che ne abbiamo ancora trovato E poi Gelindo anche se non lo troviamo non c'è problema perché comunque Lo andremo a sbloccare durante il Brawl Pass alla soia numero 30 Quindi partiamo subito con le 100 box 7 piccole Io mi accontento anche di qualche gadget stellare nel caso Non per forza un Semino perché comunque mi va bene anche altri Brawler Finché ci dai monete non ci servirà un bel niente Sai com'è bel gioco dell'ostia Non va bene Mannaggia Finché ci dà monete Possiamo dire anche no grazie al gioco perché non ci servono Allora arriviamo a 90 E abbiamo una cassetta enorme Tanto per Guarda che si bugga Non si bugga per niente Siamo avanti Niente ho solo monete ci sta dando Aia questa è una brutta cosa perché avendo solo monete Ci andiamo a perdere Allora intanto andiamo a vedere che Brawler Possiamo portare su Tra quelli più bassi Allora quante monete ho? 6.900 quindi easy ti dirò Allora andiamo a potenziare Prima Beryl Lì all'8 Così tanto per L'9 non ancora aspettiamo Allora poi livello 8 per Bibi Ok Livello 8 anche per il primo Perché tanto sono tutti già al 7 Quindi il gadget In tutti lo possiamo prendere Poi andiamo avanti No B è già all'8 Mortis lo portiamo al livello 8 Ci avanzano 3.000 e 2.925 monete Uno che mi potrebbe interessare La star power Vi dirò che è il signor broccolo Quindi lo portiamo al livello 9 E possiamo attuare la sua star power Con il poco oro che ci rimane Portiamo su Bariletto Vai di bariletto Tanto Dobbiamo portare su tutti Quindi noi continuiamo con le nostre box 7 Che comunque adesso vi dirò Adesso che di oro non ce n'è più Vi dirò che serve l'oro Però un semino Vi dirò che non mi fa schifo Perché comunque è un brother nuovo 500 Oh la Lo skip d'oro Attenzione 2% molto buono Per progredire il pass battaglia O il brawl pass con me Lo potete chiamare Oh Attenzione Questa ha caricato profondamente E c'è dentro 81 monete Eh ok campione Va bene 90 monete Finchè andiamo così Non ci ricaviamo un bel nulla 140 monete Questa qua Attenzione Dai Dai Allora arriviamo a 70 Vediamo cosa mi manca E cosa ho preso Perché vi ricordo che Con le monete che non abbiamo Che non abbiamo usato Nello scorso episodio Ho comprato alcuni gadget Che c'era nel negozio Un altro caricamento Cosa vorrà dire C'è dentro qualcosa O come al solito Non c'è dentro niente Palese Allora arriviamo Con l'ultima borsetta A 70 Non c'è un bel niente Abbiamo una cassa enorme Tanto per E andiamo a vedere Allora Ho comprato Il gadget di Jesse Che rallenta tutti Con la sua torretta Poi Jackie Mi sembra che la voce Ha fatto vedere Ems Trotta una volta scorsa Nella episodio precedente Che vi lascio Qua in alto Lì in alto A destra c'è Il video Porcio Il diapason di Porcio Che lo cura Di 500 al secondo E credo basta Perché Frank L'ha preso La volta scorsa O l'ho comprato Non mi ricordo Comunque Abbiamo anche quello Tara servo già E tutti gli altri Dovrei averli Già Da un bel po' Quindi continuiamo Subito con le box set 70esima box set Ci darà oro Come al solito Ma che delusione Dai Magari alla fine Ci prendiamo anche La mia cassa Del pass Ci sa mai Però Se non ci dai niente La vedo dura Dai Dai Allora Almeno un gadget Che mi serve Abbiamo Abbiamo tre Casse enormi Vai Skip d'oro Molto molto buono Seconda box enorme Niente di niente Ultima box enorme Ci regala La bellezza Di 140 monete D'oro Un altro caricamento Attenzione Che ci riserva La bellezza Di 98 monete Che non ci servono Nulla Comunque Andiamo a Ma come l'ho detto Fatto Va bene Doppietta Del signor Bariletto Che anche L'ultimo Che abbiamo Pottato su Sarebbe Raddoppia La velocità Di caricamento Delle doppiette Per 5 secondi Vi dirò E' meglio L'altra Dello scudo Ma comunque Vuol dire Che lo potremo Usare anche In sete Di power Il nostro Amico Bariletto Altri 58 box 7 Oro Oro E oro Che non ci Non ci fa Per nulla Sperare bene Perché il nostro Semino Non lo prenderemo Mai e poi mai 140 monete 60 monete Un bella Ostia Andiamo Le 50 box Ancora Le finiamo Attenzione Carletto Vortice Protettivo Durante la super Car Riduce Questi si danno subito Del 30% Buono Perché tanto Carlet Non poteva Usare I sete di power Adesso Lo potrò Usare 48 box 7 Qui siamo Già A 2 star power E mi sembra Strana la cosa Ok Già Si bilancia Col gadget Bibi Recupera La sete di vita Per 4 secondi Andiamo avanti 46 box 7 Ancora Alla fine Allora Potrei ritenermi Sto zitto Volevo dire Potrei tenermi contento Di 2 stellari È un gadget Gadget di corvo Che comunque Non fa schifo Perché è molto potente Dai Altro gadget di fila Niente 43 box 7 Alla fine Del box Opening 40 Niente Sempre monete Monete Se ci cacci fuori Il semino Mamma mia Dai Dai Ci cacci niente Ai 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 Non va bene Non va bene No Allora abbiamo Due Caccette nuove Tanto per Niente Eccezione un'altra Ok Uh Stellare Gadget O Gelindo Barra Semino Porca miseria Porca miseria Cosa me ne faccio Vabbè Gadget Della signorina Piper Andiamo di box Passettine Non uscirà niente Io lo so già Solo monete Solo monete Ma non uscirà Oh Eh Assezione No non esce niente Cacchio 25 box Un evento Kaiser Allora andiamo a vedere Un attimo Abbiamo 6000 monete Forse Forse Riusciamo a portare al max Tutti i brawler Poi Di trovare le stellari Vabbè Ci vorrà altro tempo Ma non c'è problema Allora Bea La portiamo su E portiamo su Anche il signor Mortisio Attenzione Tutti i brawler Livello 9 E se si può trovare La star power Giustamente Mancano gli altri due Ma Quelli neanche li contiamo Perché comunque Non li ho ancora trovati Vai Vabbè Altri gadget Tanto 6000 non esce Lo sappiamo già Non c'è da cinchischiare Non lo troviamo Dai 44 monete 20 box Rimanenti Non va molto bene Attenzione Pam Buonissima Questo Di gadget Giotto bocchetto Alla fine Dai che magari Alla fine Ci sta Il brawler Nuovo Attenzione Attenzione Non c'è niente Dentro Porca miseria Dai 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 Mamma mia Pizza pasta Mandolino Cos'è Una roba pazzesca Le cima cassa Non ci riserva un bel niente Andiamo di box Enormi Che avevo intravisto Ma ho visto male Ma basta Non parlo più Guarda Ultime 10 box Tine piccoline Oh Attenzione C'è dentro Niente 7 box 7 alla fine 118 monete Niente Di niente Porca miseria No 4 box 7 Andiamo in alternanza Cassa enorme Che ci riserva Un bonus Rimasto Che era un progetto Molto Molto Buono Cassa brawl Niente Cassa enorme Niente Perché lo sapevo già Cassa brawl Niente E davanti un po' La cassa enorme E te pareva Ovvio Ultima Boxettina Piccolina Ce li siete però Un bel Ciu 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 Ultima box Enorme E Se Quindi ragazzi Vi vi piace Vi mettete un pollicione In su Iscrivetevi al canale E attivate la campanita E state sempre attivi Sul mio canale Vi ricordo anche Che in descrizione Trovate il link Del canale Di mio fratello Se volete andare A farci un salto E qua in alto Vi ricordo Che c'è il video Di riguardante Non mi ricordo neanche cosa Avevo chiesto Ma c'è Ve l'ho messo prima Niente Non ci si becca Nel prossimo video Iscrivetevi eh Che siamo qua da 500 Dai Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao